Vincentas è uno dei medici più preparati dell'ospedale per cui lavora, tuttavia la sua passione più grande è quella per il gioco d'azzardo. Per assimulare i soldi che deve restituire ai creditori, organizza una serie di scommesse clandestine nel suo reparto. Riuscita opera prima del lituano Ignace Joninas, The Gambler è un viaggio senza ritorno nell'inferno di un uomo che ha scelto di non sperare più in nulla. Un film che è la perfetta metafora di una società in crisi di identità che deve lavorare ancora tanto per arrivare a quell'umanità perduta.